Non è questione di temere, è questione di valore della squadra. Innanzitutto la Roma negli ultimi anni è sempre stata la squadra antagonista dell'Aventus insieme al Napoli. La Roma è una squadra che dentro l'organico ha giocatori di spessore internazionale. È una squadra molto fisica, è una squadra che ha tecnica, che gioca molto sulle ripartenze. E quindi è una squadra che per forza deve essere tra le favorite dello Scudetto e secondo me è più favorita delle altre.